Buonasera e ben ritrovati in diretta nel nostro telegiornale. Iniziamo subito dalla situazione coronavirus in Italia con l'aggiornamento fornito dal Ministero della Salute. Sono 32.191 i positivi in più rispetto a ieri e questo a fronte di 208.458 tamponi effettuati per un rapporto dunque tra test positivi su test totali in questo caso pari al 15,4%. In vetta per numero di nuovi contagi anche oggi la Lombardia con 8.448 casi seguita da Veneto 3.124 e Campania 3.019. 731 sono invece i nuovi decessi che portano il totale da inizio pandemia a 46.464. 733.810 sono le persone invece attualmente positive al coronavirus nel Paese e di queste 3.612 sono ricoverate in terapia intensiva. 33.074 sono con sintomi in altri reparti e oltre 697.000 persone sono in isolamento domiciliare. Comentando gli ultimi dati il Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute Gianni Rezza durante la conferenza stampa al Ministero sulla situazione epidemiologica ha detto che c'è una sorta di stabilizzazione del numero di test positivi giornalieri. Forse una leggera flessione ma con indicatori sui ricoveri ed eccessi che non sono buoni e che rappresentano la conseguenza dei casi cumulati in queste settimane. Dunque sentiamo una parte delle sue parole. Così a tutta prima io direi dai dati che vediamo abbiamo una sorta di stabilizzazione mi sembra nel numero di test positivi giornalieri. Forse una lieve riflessione forse, però è difficile dirlo quando magari abbiamo avuto delle giornate in cui siamo arrivati a fare 250.000 tamponi. Dopo bisogna vedere lì dentro quanti ne peschi di positivi e negativi. È chiaro che piccole oscillazioni possono essere dovute proprio a queste oscillazioni invece più grandi che noi abbiamo nel numero di tamponi che si fanno. Mi sentirei di dire che non sembra esserci una crescita quantomeno nel numero di test positivi. Forse è una tendenza da una lieva diminuzione. Però se andiamo a vedere i ricoveri in area medica che sono dei dati anche più forse stabili sotto certi aspetti. Ieri erano 489 e oggi 538. Anche qua piccola variazione però in tendenziale aumento. i ricoveri in terapia intensiva ieri più 70, oggi 120. Quindi adesso questo quanto possa essere influenzato dal weekend i ricoveri in terapia intensiva? Insomma penso forse non molto. Quindi questo vi dice come anche quando diminuisce un po' le rettite, tendono magari a diminuire forse un po' anche i nuovi casi o quantomeno a stabilizzarsi. Vediamo che dopo la parte che sta più a destra della curva. Cioè gli ingressi in terapia intensiva tendono comunque sia ad aumentare. Tanto è vero che purtroppo abbiamo questo dato di 731 decessi oggi. E questo sicuramente non è un dato positivo. Non è in controtendenza, ripeto, rispetto al fatto che non aumentino i test positivi. È dovuto semplicemente al fatto che purtroppo i decessi fanno riferimento ai casi che si sono andati accumulando negli ultimi due mesi. Il virus è un nemico insidioso, guai a dividersi. E questo al vanito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che è intervenuto in videoconferenza alla sessione di apertura della 37esima Assemblea Annuale dell'Anci, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Allora sentiamo una parte del suo intervento in cui invita tutti, istituzioni e cittadini a collaborare. Questo virus è ancora in parte sconosciuto, ma tra gli altri aspetti ci rendiamo conto che tende a dividerci. Tra fasce di età più o meno esposte ai rischi più gravi, tra categorie sociali più o meno colpite dalle conseguenze economiche, tra le stesse istituzioni chiamate a compiere le scelte necessarie, talvolta impopolari, perdurre il contagio e garantire la doverosa assistenza a chi ne ha bisogno. Il pluralismo e l'articolazione delle istituzioni repubblicane sono e devono essere moltiplicatori di energie positive. Ma questo viene meno se nell'emergenza ci si divide. Dobbiamo fare ricorso alle nostre capacità e al nostro senso di responsabilità per creare convergenze e collaborazione tra le forze di cui disponiamo, perché operino nella stessa direzione, anche con osservazioni critiche, sempre utili, ma senza disperderle in polemiche scomposte o nella rincorsa a illusori vantaggi di parte, a fronte di un nemico insidioso che può travolgere tutti. La libertà rischia di indebolirsi quando si abbassa il grado di coesione, di unità tra le parti. È questa la prima responsabilità delle istituzioni democratiche, a tutti i livelli, e questa è la lezione che la pandemia ribadisce con durezza. Vorrei parlare anche di un altro aspetto di questa dialettica, che talvolta può rimanere in secondo piano, quel che ciascuno di noi, cittadini, può e deve fare per la sua comunità. Vi sono le norme, le ordinanze, le regole dettate applicate dalle istituzioni, ma insieme è necessario l'impegno convinto di ciascuno di noi. La responsabilità personale, che in larga misura abbiamo apprezzata nei mesi scorsi. Dobbiamo tutti adottare i comportamenti di prudenza suggeriti. Le mascherine, l'igiene, il distanziamento, la scelta di fare a meno di attività e incontri non indispensabili. Non per imposizione, non soltanto per suggerimento o per disposizione delle pubbliche autorità, ma per convinzione, liberi e per questa ragione appunto responsabili. Consenso di responsabilità verso gli altri e anche verso se stessi, per convenienza, se non si avverte il dovere della solidarietà. Nessuno si lascia ingannare dal pensiero a me non succederà. Questo modo di pensare si è infranto contro casi innumerevoli, di disillusione, di persone che la pensavano così e sono state investite dal coronavirus. La conferenza delle regioni e delle province autonome propone al governo l'uso di cinque indicatori al posto degli attuali 21 per definire il rischio di contagio nelle varie zone gialla, arancione e rossa e dunque determinare il passaggio da una all'altra. E chiede anche un incontro urgente con il ministro della Salute, Speranza, e il ministro per gli affari regionali, Boccia. Per le regioni riunite stamani in videoconferenza, gli attuali parametri risultano infatti inadeguati incongri e dunque da rivedere. Dalla conferenza è arrivato dunque l'ok alla proposta della regione Friuli Venezia Giulia di revisione dei parametri e di modifica del processo decisionale. Il nostro obiettivo, ha commentato il governatore Massimiliano Fedriga, è quello di avere a disposizione dei parametri immediatamente disponibili da parte delle regioni che devono essere il frutto, afferma Fedriga, di un confronto con la parte tecnico-scientifica sia a livello nazionale che regionale. Confronto che deve essere da supporto per la decisione finale che non può che essere di carattere politico. Chiediamo, continua Fedriga, un passo in avanti in termini di responsabilizzazione sia da parte del governo che delle regioni al fine di compiere le scelte migliori per combattere la pandemia e tutelare al massimo la salute dei cittadini. E rispetto a questi indicatori, avere più indicatori significa avere una fotografia più completa, ha detto il Ministro della Salute Speranza a carta bianca su Rai 3 come riporta all'Ansa. Questi 21 indicatori, ha detto appunto Speranza, l'usiamo da maggio e ci hanno aiutato a leggere l'epidemia, dopodiché il dialogo con le regioni è sempre aperto, ma 21 criteri significa avere una fotografia più affidabile. Oggi questo è il modello che abbiamo, ha detto Speranza, e dobbiamo rispettarlo. I numeri odierni, ha poi continuato, indicano una situazione seria che non può essere sottovalutata, c'è una circolazione significativa del virus, i segnali sul piano dell'RT hanno indicato un primissimo segnale di controtendenza, ma non basta. Dobbiamo portare subito l'RT sotto 1, ha detto Speranza, e poi vedremo meno ricoveri, ma i decessi sono gli ultimi a risentirne. Le misure che stiamo assumendo sono indispensabili, ha detto ancora il Ministro. E poi rispetto alle regioni rosse bisogna avere prudenza, ha affermato Speranza. Lì si stanno facendo sacrifici, ma sono per avere dunque la massima prudenza. Lavoriamo perché misure possano ridursi, ma guai ad avere fretta. Il virus, ha poi detto, non scomparirà e dunque non sarà un Natale come gli altri, bisogna dire le cose come stanno. Entro la fine di gennaio, ha poi detto ancora Speranza, dovremo avere le prime dosi del vaccino anti-Covid. L'EMA dovrà dare l'autorizzazione, ma tutti i dati segnalano che dovremo averle. E poi il Ministro ha annunciato anche che tra qualche settimana dovremmo avere anche un altro strumento, ossia gli anticorpi monoclonari. Una vaccinazione anti-Covid alla popolazione su larga scala, ha continuato Speranza, avverrà da primavera inoltrata in avanti. Le prime dosi, ha ribadito il Ministro, saranno destinate ai medici e agli infermieri in prima linea e alle persone più fragili. Veniamo ora a concentrarci sui dati più specifici riguardanti il Friuli Venezia Giulia. Prima di continuare però rivediamo i titoli del nostro Tg delle 19. Oltre 30 contagi, tra cui detenuti in 41 bis a Tolmezzo, 40 positivi in casa di riposo a San Giovanni e a Natisone, 10 infetti al pronto soccorso di Uline. Il virus continua ad espandersi, 10 le vittime nelle ultime 24 ore. Percorrere ai ripari, le aziende sanitarie di Uline e Pordenone cercano nuove strutture per ospitare i positivi asintomatici e paucisintomatici, ma serve nuovo personale e spunta il bando per reperire medici e infermieri in cui è scienza. Mentre Fedriga ottiene l'ok della conferenza delle regioni per spingere il governo a rivedere i parametri degli indicatori sanitari, è caos nell'interpretazione del DPCM per spostarsi da un comune all'altro, ma anche per dare pasti a chi lavora. La giunta Fontanini vara un intervento di riqualificazione per il Palamostre con spazi espositivi per gli artisti locali, mentre si risistemerà la pista di atletica a Paderno, nuova asfaltatura per un milione di euro, 90 mila euro per il teatro stabile triulano. Il giocatore è rientrato ieri sera dall'Argentina e lamenta solo un risentimento muscolare, domani dovrebbe lavorare in gruppo, rientrato pure il danese Struger che sta bene. E dunque venendo la situazione coronavirus in Friuli e Venezia Giulia, oltre 30 i contagi nel carcere a Tolmezzo, tra cui alcuni detenuti in 41 bis e poi 40 positivi, in casa di riposo a San Giovanni al Nattisone, 10 infetti al pronto soccorso di Udine. Il virus continua a espandersi, mentre aumentano anche le vittime, 10 in più rispetto a ieri, per un totale di inizio pandemia pari a 556 decessi. Rispetto a queste ultime morti, si tratta di tre ultranovantenni tra Tarcento, Trieste e Pordenone, di un 89enne di Forni di Sotto, di un 77enne di Milano morto in ospedale Udine, poi ancora di un uomo di 74 anni di Marano Lagunare, di un 72enne di Porpetto, di una donna di 70 anni di Tarcento morta in una residenza per anziani e di una 66enne di San Giorgio della Richinvelta morta in ospedale. In Friuli, Venezia e Giulia sono stati rilevati oggi 536 nuovi contagi, pari al 9% dei 5.926 tamponi eseguiti e sono stati, come detto, registrati 10 decessi. I casi attuali di infezione sono 10.584, scendono a 44 i pazienti in cura in terapia intensiva, mentre salgono a 454 i ricoverati in altri reparti. Le persone in isolamento sono 9.923. E come detto, dunque è salito a oltre 30 persone il numero dei positivi all'interno del carcere di massima sicurezza di Tolmezzo. Si tratta di circa 25 detenuti, ma il dato potrebbe salire, con l'esito di ulteriori tamponi effettuati ieri in mattinata, e di una decina di agenti di polizia penitenziaria. Per quanto riguarda la positività delle persone ristrette, si segnalano contagi sia nella sezione di alta sorveglianza, sia in quella riservata ai detenuti per 41 bis, almeno due. Al momento non c'è stata la necessità di richiedere ricoveri in ospedale, ma i visti numeri del contagio, ovviamente c'è la massima attenzione da parte della direzione della struttura carceraria. Secondo il segretario della UILPA, Gennarino De Fazio, il fatto che ci siano anche reclusi in regime di carcere duro, potrebbe dipendere da contatti con gli agenti penitenziari o con lo spesino che gli consegna gli approvvigionamenti consentiti o che ancora distribuisce i pasti. Ed è dunque corsa contro il tempo in Friuli per gestire l'emergenza Covid in ospedale non solo. L'azienda sanitaria Friuli Centrale ha già aperto un Covid Hotel a Udine e oggi ha pubblicato un bando per trovarne un altro. Per la cura dei pazienti si chiede aiuto anche ai medici e agli infermieri in pensione. Da inizio pandemia sono raddoppiati i posti letto ma dall'azienda sanitaria arriva forte la richiesta di evitare tutte le possibili occasioni di contagio. Si allarga la ricerca di spazi all'interno dell'azienda sanitaria di Udine per ospitare i malati di coronavirus. Dopo l'apertura del cosiddetto Covid Hotel presso la residenza Zaffero di Via Umago, dove ci sono già 30 posti occupati da persone, soprattutto anziani, con un livello di media intensità di cura, la struttura diretta dal dottor Massimo Braganti ha aperto proprio oggi un bando per trovare un ulteriore luogo dove accogliere pazienti pauci sintomatici. In Via Umago c'è già la possibilità di un ampliamento ma abbiamo bisogno di ulteriori letti circa 25-30 sempre sul territorio di Udine, spiega il direttore generale. Il problema principale rimane sempre quello del personale, tanto che è forte l'appello affinché i medici e infermieri in pensione si mettano in contatto con l'azienda sanitaria e si rendano disponibili anche per periodi limitati. Per l'assunzione in forma di collaborazione si può fare riferimento alle ricerche aperte presso l'Agenzia regionale di coordinamento per la salute, la cosiddetta centrale di acquisto di tutta la sanità regionale. L'azienda sanitaria ha già raddoppiato i posti letto, escluse le terapie intensive da inizio pandemia, uno sforzo notevole che serve per accogliere i tanti contagiati che purtroppo si annoverano anche nelle fila dei medici. È recente il focolaio scoppiato nel pronto soccorso di Udine dove una decina di operatori sono risultati positivi. Il personale è stato recuperato a tempo di record dai pronto intervento appena chiusi per l'emergenza covid di Gemona e Cividale. Ma l'impegno è notevole su più fronti, anche in quello della prevenzione. Negli spazi della fiera di Udine i pediatri di libera scelta stanno effettuando i tamponi rapidi ai bambini, anche scolari. Per evitare di sovraccaricare ulteriormente un sistema sanitario già in perenne emergenza, da Udine arriva forte l'appello alla responsabilità dei cittadini. In questi momenti, chiede Braganti, bisogna recuperare i comportamenti virtuosi di questa primavera, evitare assembramenti e possibilità di contagio, purtroppo aumentate in maniera esponenziale nell'ultimo periodo. Ed è il primo focolaio di contagio da coronavirus all'interno delle strutture Sereniorizzonti della provincia. Nella struttura di San Giovanni all'Annatisone sono emersi 48 casi di positività tra i 73 ospiti e un decesso avvenuto in ospedale di un anziano che aveva già altre complicazioni. dei 43 positivi, 8 manifestano i sintomi da covid-19, gli altri sono asintomatici. Sul fronte dei dipendenti, 10, quelli contagiati su 42, sono tutti in quarantena. In questi giorni è stata disposta la sanificazione della struttura e le altre 4 residenti Sereniorizzonti tra Iello del Friuli, Risano, Gemone e Pasiandi Prato invece rimangono covid-free, così come è accaduto nella primavera. Complessivamente nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 135 casi di contagio tra gli ospiti, mentre sono 9 quelli tra gli operatori sanitari. Ci sono anche 6 case di riposo del Friuli Venezia Giulia tra le 37 strutture italiane controllate dal nucleo antisoficazione dei carabinieri in Italia e questo nell'ambito del dispositivo di verifica richiesto dal Ministro della Salute in ottica anti-covid. In due di esse sono state ritrovate irregolarità. Con il progressivo aumento della diffusione epidemica da covid-19 è stato rafforzato, su esplicita richiesta del Ministro della Salute Speranza, il dispositivo dei carabinieri del NAS dedicato al controllo dei servizi devoluti all'ospitalità e alla cura delle persone anziane. Sono state 232 le ispezioni nell'ultima settimana in Italia e in 37 strutture sono state riscontrate irregolarità. In particolare evidenziate 24 violazioni in materia di misure di prevenzione, pare al 40% complessivo, per assenza di piani preventivi anti-covid e in 9 episodi per la loro mancata attuazione. Sono state rilevate anche infrazioni relative al possesso, all'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori e alla presenza di igienizzanti disinfettanti. Oltre ai controlli tese a tutelare la salute degli anziani e dei disabili esposti al potenziale rischio di contagio da covid-19, le verifiche hanno evidenziato pure 35 irregolarità inerenti al livello di assistenza fornito agli ospiti e all'adeguatezza delle strutture. I controlli hanno riguardato pure il Friuli, due strutture per anziani in provincia di Udine, due in provincia di Trieste e due in provincia di Pordenone. Irregolarità sono state riscontrate da parte dei carabinieri in due case di riposo in particolare, in Carnia dove ci sarebbe anche una violazione di carattere penale e l'altra nella bassa frulana perché pur avendo il protocollo covid-19 a giudizio degli investigatori sono emerse alcune carenze. In generale comunque durante i sei controlli effettuati in regione non sono state riscontrate criticità dal punto di vista organizzativo e dell'adozione dei dispositivi di protezione e sicurezza. Le ispezioni continueranno anche nei prossimi giorni. Venendo invece al commercio in Friuli, Venezia e Giulia, dunque zona arancione, ci sono alcuni interrogativi rispetto agli spostamenti permessi o meno tra comuni per gli acquisti. Vediamo il servizio. Aperti sabato e domenica perché non considerati centri commerciali raggiungibili anche da clienti non residenti nel comune in cui sorgono, purché ciò che si stia cercando non sia disponibile all'interno dei confini del territorio comunale o che sia venduto altrove a un prezzo migliore. Dopo lo stop imposto nella fine settimana dall'ordinanza Fedriga, dopo il ritiro del documento da parte del governatore del Friuli Venezia Giulia e la proclamazione della zona arancione, i negozi si riorganizzano per la vendita al pubblico che lascia aperte alcune possibilità. Tra i primi a coglierle, un grande magazzino dell'interland udinese che via mail e via messaggio ha comunicato ai propri clienti non solo di essere aperto nel fine settimana ma di attuare anche una scontistica del 20% per essere così concorrenziale anche sul prezzo. Nello scritto vengono indicate anche le motivazioni per cui lo spostamento è possibile, ossia la necessità e la mancanza della vendita di determinati prodotti nel comune di residenza, oltre che alla convenienza ottenuta dal prezzo ribassato. Nel Goriziano c'è chi addirittura ha linkato indirizzi utili per scaricare l'autocertificazione o QR-quad da utilizzare da mobile, insomma qualsiasi cosa pur di agevolare la vendita. Strategie di marketing che hanno creato stupore in molti consumatori, ma anche in diversi addetti del settore, considerato il momento di pandemia che stiamo attraversando, con Confcommercio che rimanda a tutti a chiedere delucidazioni alla prefettura. In attesa di possibili sviluppi, visto il peggioramento dell'andamento della pandemia a livello nazionale, a premiare o a penalizzare l'audacia di alcuni commercianti sarà solo il mercato. Parliamo ora della Presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, che in seguito dunque la chiusura di bar e ristoranti in Friuli Venezia Giulia, in quanto zona arancione, afferma è necessario assicurare un pasto caldo ai lavoratori dell'edilizia e di altri settori in strutture di ristoro convenzionate, idonee a ospitare in sicurezza le maestranze. Il problema, sottolinea la Presidente in una nota, interessa al comparto edile, ma anche altre attività su commessa, nonché i ristoranti a servizio di aree industriali e artigianali, evidenziando che attualmente in Regione molte lavorazioni sono svolte in territori anche impervi, e dove solo un convenzionamento con strutture di ristoro in loco può consentire la prosecuzione delle attività edilizie, Anna Mareschi Danieli ha suggerito di continuare ad adempiere al disposto contrattuare del cosiddetto pasto caldo tramite convenzionamento con strutture di ristoro collocate nelle vicinanze dei cantieri, ancorché non aperte al pubblico, ma adibite nel caso specifico a mensa aziendale, ovviamente nel rispetto delle norme anti-Covid. Secondo infatti la Presidente di Confindustria Udine, dato che il DPCM del 3 novembre prevede l'utilizzo delle mense del catering continuativo su base contrattuale, un'interpretazione estensiva di questo aspetto potrebbe ragionevolmente risolvere il problema. Per Anna Mareschi Danieli la soluzione prospettata rappresenta, come afferma, l'unica soluzione per evitare la sospensione dei lavori e la messa in cassa integrazione guadagni delle maestranze impiegate nei cantieri. Veniamo ora alle nostre flash news, che come sempre riassumono alcuni dei più importanti fatti di cronaca. Vediamo. Un uomo che stava effettuando lavori di rimessaggio su alcune imbarcazioni è caduto da un'altezza di circa 3 metri, provocandosi importanti lesioni. L'incidente sul lavoro è accaduto questa mattina, poco prima delle 9 e mezza, in un cantiere a Monfalcone. Soccorso, l'uomo è stato elitrasportato a Catinara, in codice giallo. A Trieste continuano i controlli per il rispetto del DPCM. Sanzionate 14 persone, in particolare due giovanissimi cittadini serbi, sono stati sorpresi in via di Servola alle 2, senza giustificati motivi e privi di mascherina. Poco prima i due avevano anche creato disturbo in una piazza. 11 i locali controllati e 2 i titolari sanzionati. Ha patteggiato un anno, 9 mesi e 10 giorni, con la sospensione condizionale della pena Dionisio Trevisan, 70 anni di Precenicco, dirigente responsabile di cantiere della ditta Friul Montaggi di Porpetto, uno dei due imputati per la tragica morte bianca di Donato Maggi. L'operaio è rimasto folgorato a soli 37 anni, il 7 agosto 2018, nel cementificio di Fanna. L'uomo era il suo primo giorno di lavoro con la nuova ditta. Affronterà invece il processo l'altro indagato, il titolare di Friul Montaggi, Aldo Bertoia, 51 anni, di Latisana. La Guardia di Finanza di Trento ha scoperto una presunta truffa di cambio valuta ad annendo i numerosi cittadini, ai quali sono state sottratte decine di migliaia di euro. Secondo le Fiamme Gialle, che hanno sequestrato 130.000 euro contraffatti, l'attività truffaldina era effettuata da una banda composta da 5 persone di due famiglie sinti, radicate nel Friulano, che tra l'altro percepivano il reddito di cittadinanza. Tutti sono stati denunciati per associazione per delinquere, finalizzata a truffa e riciclaggio. I malviventi promettevano di cambiare denaro a condizioni iperfavorevoli e poi sparivano con i soldi a loro affidati. Un carabiniere di 44 anni in servizio alla compagnia di Sacile è stato arrestato in flagranza per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella perquisizione domiciliare disposta dal procuratore di Pordenone, Raffaele Tito, sono stati rivenuti circa 50 grammi di cocaina. L'indagine è la prosecuzione di un'inchiesta che a maggio aveva portato all'esecuzione di 5 misure cautelari tra le province di Pordenone e Venezia. Spostiamoci ora a Udine dove il Palamostre cambierà gli interni guadagnando spazi espositivi che saranno dedicati ad artisti locali, opere nascoste nei depositi e disegni conservati negli archivi. Il tutto per un intervento di 2 milioni e 500 mila euro come ci ha spiegato il Sindaco Fontanini. Sindaco, il Palamostre cambia volto grazie a un investimento di 2 milioni di euro che arrivano da finanziamenti regionali. Come si interverrà? Si interverrà recuperando uno spazio che attualmente non è utilizzato perché è diventato prettamente un deposito. Invece noi vogliamo farlo rinascere questo Palamostre perché è stato un luogo di esposizione. Vogliamo che torni in un luogo di esposizione delle opere che abbiamo in deposito che possono essere visitate dai visitatori, da coloro che sono interessati all'arte, ma anche un luogo in cui gli artisti del nostro territorio possono esporre le loro opere. Ecco perché al piano terra stiamo realizzando uno spazio molto ampio proprio per permettere agli artisti locali di poter far vedere le loro opere. Al piano superiore invece avremo proprio lo spazio per recuperare e mettere in mostra le opere che sono in deposito. in più anche abbiamo uno spazio che riguarda gli archivi dei disegni perché abbiamo moltissimi disegni fatti da progettisti di valore, da architetti in particolare, che hanno realizzato opere significative in questa città e l'archivio dei depositi è pieno in pratica di questi studi che sono molto interessanti e possono essere consultati anche da studiosi, da appassionati dell'arte. Quindi un recupero poi realizzeremo anche una sala polifunzionale per tenere delle conferenze legate sempre al discorso dell'arte. Quindi un recupero di questo edificio che ripeto è stato progettato negli anni 70 dall'architetto Avon e che per ormai da più di dieci anni è dismesso, non viene utilizzato completamente e noi vogliamo recuperarlo. Ringrazio la Regione che ci ha già dato un contributo molto sostanzioso di 2 milioni e 500 mila euro per fare questi lavori. Oggi abbiamo definito gli spazi e l'utilizzo di questi spazi. Adesso i progettisti dovranno redigere il progetto definitivo esecutivo. Così dunque il Sindaco Fontanini che abbiamo raggiunto stamani in occasione della Giunta Comunale e Giunta che ha preso anche altre decisioni oggi tra cui un progetto di fatibilità per asfaltature che ammonta un milione di euro e poi il rifacimento del manto delle piste del campo di atletica di Paderno per 650 mila euro e ancora un contributo di 30 mila euro a sostegno dell'attività di produzione in lingua friulana del Teatro Stabile Friulano. Il piano asfaltature prevede interventi in diverse aree del capoluogo tra cui le arterie di Viale Pasolini, Via delle Ferriere e Via Pieri. Prima di passare allo sport vi parliamo anche di un intervento agli etofine dei Vigili del Fuoco a Roveredo in Piano. Nella mattinata infatti la prima partenza dei Vigili del Fuoco di Pordenone è intervenuta per soccorrere una coppia di cervi che si trovavano bloccati all'interno del canale Brentella nel comune come detto di Roveredo. Assieme al personale del recupero fa una selvatica i Vigili del Fuoco dunque hanno issato a riva i due cervi che poi sono stati liberati nelle campagne in buona salute. Veniamo ora all'Udinese. Roberto Pereira può sperare di essere in campo domenica contro il Genoa. Nulla di grave infatti la sospetta lesione muscolare riscontrata la scorsa settimana durante il ritiro con la nazionale argentina. Il giocatore è rientrato a Udine e si è sottoposto stamane ai test medici che hanno dato esiti confortanti. Cauto ottimismo per Roberto Pereira. Hanno dato esiti confortanti i primi esami strumentali sostenuti oggi a Udine dal 29enne argentino. Di rientro dalla parentesi dedicata alle nazionali. Il campanello d'allarme era scattato alla vigilia dell'impegno dell'Albi Celeste contro il Paraguay, al quale il Tucu non aveva preso parte per una sospetta lesione muscolare alla gamba sinistra. Le terapie effettuate prima del ritorno in Friuli hanno però sortito subito effetti benefici, tanto che il giocatore quest'oggi ha già svolto una seduta personalizzata in palestra e può sperare di mantenere il posto da titolare nella gara casalinga di domenica contro il Genoa. Una prima buona notizia per Mr. Gotti, che domani tornerà ad avere a disposizione anche Jens Strüger-Larsen. Pure il danese è rientrato a Udine dopo aver ben figurato con la sua nazionale negli incontri contro Svezia e Slanda. In tarda mattinata ha seguito un programma di scarico individuale ed è ora pronto a rituffarsi in clima campionato dove il tecnico punta sul suo apporto nell'audidestra. E migliorano anche le condizioni di Wallace, che però continua per il momento a lavorare a parte. Su di lui prevale la linea della prudenza, onde evitare nuove ricadute dopo riaccutizzarsi del problema muscolare che lo aveva costretto nuovamente ai boxe dopo il match contro la Fiorentina. Proprio e Viola torneranno ad incrociare la loro strada con quella dei bianconeri mercoledì prossima in Coppa Italia. Ed è lì che il brasiliano ha maggiori possibilità di essere impiegato se nei prossimi giorni tornerà ad allenarsi assieme ai compagni. La preparazione dell'udinese intanto prosegue a ritmo di una seduta al giorno, con il gruppo domani a lavoro al mattino sui campi del Bruseschi. Il tutto, mentre i nazionali Okaka, Lasagna, Nestorowski e De Paul affronteranno tra stanotte e domani gli ultimi impegni con le rispettive selezioni, in cerca di soddisfazioni personali e soprattutto di carica agonistica da poter poi trasferire anche alla causa bianconera. Venendo al basket, l'Allianz Palacanestro Trieste in una nota ha annunciato che all'esito dei tamponi molecolari eseguiti ieri, dieci componenti del team squadra risultano attualmente positivi al Covid-19 e seguono le procedure di isolamento previste dai protocolli vigenti. L'attività, anche a livello individuale, resta per il momento sospesa, spiega ancora la società. Una nuova serie di tamponi verrà effettuata giovedì su tutto lo staff e il personale per monitorare l'andamento dei contagi. Dopo questa informazione sportiva andiamo a leggere assieme i titoli di apertura delle prime pagine fino a questo momento disponibili. Allora iniziamo con il gazzettino che ha questo titolo. Recovery, primo segnale positivo. In Veneto ieri ci sono stati più pazienti diversi rispetto a quelli entrati in ospedale ma ha toccato anche il record di 100 morti. Zaia è presto per dire il peggio è passato. Ancora a Solibero, mezza Italia rifiuta il vaccino. Siamo un paese poco fiducioso. Sondaggio incredibile, afferma Libero, il 35% dei cittadini non ha intenzione di farsi iniettare il siero anti-covid mentre il 15% è indeciso. A forza di parlare di Novax scordiamo che solo la scienza ci salva. Ancora il giornale di flop in flop contene il caos. Calabria salta al terzo commissario in dieci giorni. Gaudio, mia moglie, non vuole andare a Catanzaro. La lezione lombarda 167 milioni per i ristori. Continuiamo, andiamo sulla verità. L'unico commissario che serve è quello per fermare Giuseppi. Il governo sprofonda nel ridicolo. In Calabria si dimette il terzo incaricato in dieci giorni. Mia moglie non vuole vivere a Catanzaro ma la realtà è un'altra. Conte è nel caos. Persino Strada parla di situazione grottesca mentre Arcuri litiga pure con i medici. E poi esclusiva di Panorama, i PM di Brescia riaprono l'inchiesta sui tamponi. Rispetto alla situazione in Calabria, come ha informato nella serata l'ANSA, Gino Strada ha annunciato l'accordo con la protezione civile. Il fondatore dell'ONG arriva infatti dopo le dimissioni dell'ex rettore della Sapienza, Gaudio. Il presidente della regione Spirli ha detto non siamo l'Afghanistan. L'ANSA riporta che è stato spiegato appunto oggi pomeriggio abbiamo definito un accordo di collaborazione tra Emergence e protezione civile per contribuire concretamente a rispondere all'emergenza sanitaria in Calabria. Inizieremo domani mattina ha detto Strada a lavorare a un progetto da far partire al più presto. Così appunto tra le ultime notizie emerse rispetto al caso della Calabria. Continuiamo però con lo sfoglio delle prime pagine. Abbiamo, se non ero ancora a disposizione, il foglio. Infatti andiamo a vedere i titoli in evidenza in rosso. Prendere sul serio la rivoluzione di Macron. Leggiamo e poi a destra la concorrenza ci salverà dalla pandemia. Vi ricordo come sempre l'appuntamento con la nostra rassegna stampa di domattina a partire dalle 7 ovviamente per un approfondimento su tutte le principali notizie di carattere nazionale, internazionale e ovviamente locale. Grazie per la vostra attenzione e buonanotte. Vi salutiamo con Accade Oggi. Il 17 novembre del 2004 Stefano Mauri, che l'udinese aveva acquistato nell'agosto dello stesso anno, debutta in nazionale. L'Italia affronta Messina, la Finlandia, una gara amichevole, gli azzurri vincono per 1-0 e Mauri fa il suo sacrosanto dovere. Ma fa il suo sacrosanto dovere anche con la maglia dell'udinese. È uno degli elementi che l'allenatore Luciano Spalletti sfrutta maggiormente e lui risponde nel modo migliore segnando 5 reti. Mauri non è un attaccante puro, è un trequartista, è un esterno, è una mezzala. Comunque dà il suo contributo anche in corso d'opera quando viene chiamato dal tecnico dei bianconeri. Complessivamente Mauri con la maglia azzurra disputerà 11 gare. Dopo l'avventura abbastanza breve con l'udinese, nel gennaio del 2006, approda all'Alasio e nell'Alasio fa un importante salto di qualità. Via via diventerà uno dei perni della formazione capitolina, con cui collezionerà qualcosa come 253 presenze in campionato, impreziosite da 42 gol. Ma la carriera di Mauri è stata anche un po' tormentata da vicende giudiziarie, infatti è stato coinvolto anche dalla vicenda del calcio scommesse. Complessivamente con l'udinese ha disputato 65 gare, 48 in campionato e 5 gol, 8 in Coppa Italia e 3 reti segnate, 9 nelle manifestazioni europee. Grazie. Grazie.